9 dicembre 2012, Monte Mucrone, ecco vedete lo spettacolo, qui c'è il monte, là c'è la croce, io sono salito da Europa tramite Europa Sport e poi seguendo tutta la cresta, arrivando qui al Monte Mucrone. Oggi è stata molto faticosa perché si sfondava parecchio, la neve è tanta ma lo spettacolo merita, bisognerà stare molto attenti nello scendere, ecco qui, là c'è il Monte Camino, Monte Tovo, Bielmonte, ripeto qui di nuovo a Cino del Mucrone, là c'è la croce e lì c'è il Mont Marone. Ecco qua che spettacolo, Monte Mars, ecco lì, là in fondo sulla catena di Monte Rosa ci sono già delle nuvole, adesso mi fermerò un po', poi scenderò subito. Là c'è Europa e qui c'è la vetta, il tempo impiegato oggi è stato di 2 ore 20, purtroppo si sfondava parecchio, è stato molto difficile. E con questo mando un saluto e un arrivederci, alla prossima!